Il 2024 è un anno all'insegna della telecomunicazione, per i 150 anni dalla nascita di Guglielmo Marconi, inventore della radio, i 100 anni dalla radiodiffusione in Italia e i 70 della televisione, capofila delle celebrazioni toscane, il MUMEC, il Museo dei Mezzi di Comunicazione di Arezzo. Abbiamo già un'apparezzatura funzionante pronta per farla vedere all'auditorio, abbiamo due televisori degli anni 50 che stanno funzionando molto positivamente con tutte le difficoltà che ci sono sulle tecnologie antiche, che però abbiamo recuperato e che quindi queste celebrazioni rimarranno qua valide per tutto l'anno e quindi per le scuole, per i curiosi, per la città e per chi vorrà venire saranno sempre disponibili a essere visti. Protagonista dell'anno dedicato alla telecomunicazione sarà la mostra Il Mondo in Tesca, a testimonianza di quanto la tecnologia abbia ormai portato una costante e diffusa facilità di informazione sempre a portata di mano. Diciamo un richiamo a quello che era un progetto di mio padre nel 1987 che era proprio Il Mondo in Casa. Il Mondo in Casa era chiamato così perché la radio ha portato il mondo all'interno delle case. Oggi la comunicazione è cambiata, è cambiato il modo di comunicare, sono cambiati i mezzi per comunicare e oggi abbiamo tutti il mondo all'interno delle nostre tasche ovviamente con i cellulari. Ospite d'onore delle celebrazioni iniziate in occasione della giornata mondiale della radio la famiglia di Guglielmo Marconi, veri e propri testimoni di vita e ricordi del grande scienziato. Purtroppo non ho avuto la fortuna di conoscerlo perché sono nato molti decenni dopo la morte di nonno nel 1937, però ho avuto la fortuna di vivere in casa di mia nonna Maria Cristina Marconi, appunto vedova di Guglielmo Marconi che è morta a 94 anni e mi raccontava tutto della sua vita col marito e tutte le loro esperienze meravigliose, le avventure scientifiche, anche i contatti che avevano, le amicizie personali. Tra l'altro siamo in Toscana, vorrei ricordare l'amicizia di Marconi con la Toscana, con Giacomo Puccini, si vedevano sempre l'attore del lago, con Gabriele D'Annunzio, si vedevano a Viareggio. Viareggio è la città dove si conobbero i miei nonni, mio nonno Guglielmo che incontrò la prima volta mia nonna Maria Cristina e poi si sposarono qualche anno dopo. Quindi insomma è una bella occasione che ad Arezzo inizino questi 150 anni a nasce ai Marconi.